signori buongiorno e benvenuti sul canale del master k e io sono il master k e il vostro ospite su questo canale la settimana scorsa abbiamo cominciato a parlare della cultura e dell'organizzazione sociale all'interno del mondo di gioco immaginario per quanto riguarda il world building e come abbiamo fatto il mese scorso per quanto riguarda la fisica del mondo adesso cominciamo a vedere un po di aspetti pratici su come utilizzare questi concetti all'interno del mondo che voi state costruendo nello specifico questa settimana andiamo a vedere il metodo della sostituzione detto anche il metodo della sostituzione culturale o il metodo dell'equivalenza culturale l'ho sentito chiamare in vari modi che è uno dei metodi più facili e veloci per introdurre alcuni aspetti importanti della cultura del mondo ai giocatori ma senza dover perdere tempo e rompere il flusso della narrazione dovendo inserire intermezzi di lunghe spiegazioni o dover fornire una quantità enorme di materiale aggiuntivo ai giostri giocatori per per capire come funziona il mondo quindi non perdiamo altro tempo e vediamo il metodo della sostituzione cominciamo come sempre col definire che cosa sia il metodo della sostituzione sostanzialmente il metodo della sostituzione è prendere un elemento già noto ai giocatori e che abbiano significato culturale definito e chiaro e andarlo a sostituire con un elemento che riguarda la cultura della vostra ambientazione mantenendo quello stesso significato il suo principale vantaggio è che permette di introdurre ai giocatori contemporaneamente sia un elemento di war building della vostra ambientazione sia quello che è l'impatto previsto di quel elemento sull'ambientazione stessa facendo però riferimento a un elemento culturale già noto ai giocatori questo permette di minimizzare i tempi di spiegazione per quello che riguarda l'elemento culturale stesso è qualcosa che i giocatori già conoscono o almeno dovrebbero almeno in teoria conoscere e quindi sapranno già come approcciarsi e sapranno già che cosa significa all'interno di quel contesto fondamentalmente il metodo della sostituzione è uno di quei casi in cui all'interno del gioco si sfrutta il metagame per avere un vantaggio positivo per la struttura della quest e per la narrazione abbiamo già parlato di cosa sia il metagame e perché non sia qualcosa di intrinsecamente negativo nel caso vi lascio qua sopra il video se dovete andarvelo a riprendere cosa significa però andare a prendere un elemento culturale noto e sostituirlo con un altro nella pratica cioè che cos'è di per sé la tecnica della narrazione andiamo a fare qualche esempio il metodo più comune che è anche quello da cui la tecnica prende il nome è proprio quello di prendere una cultura all'interno del vostro mondo di gioco e rappresentarla come se fosse una cultura del mondo reale fondamentalmente sostituire una cultura con un'altra in molte ambientazioni tra cui anche delle ambientazioni ufficiali esiste una zona nel nord dove vive un popolo di feroci guerrieri e predoni che attaccano le navi fanno i pirati che hanno un esplicito riferimento ai vichinghi e in generale la cultura norrena e magari un altro regno a est chiamato il katai direttamente alcune volte comunque esiste una zona dove c'è la cultura orientale e magari altri popoli vivono si comportano come se in realtà fossero appartenenti a una cultura del nostro mondo reale non devono neanche essere culture vere e proprie potrebbero essere anche proprio razze che vengono rappresentate con delle caratteristiche di alcune culture umane nell'ambientazione di warhammer gli uomini lucertola che abitano le giungle di lustria hanno una posizione sulla mappa di gioco che grossomodo è quella del sud america e la loro cultura i loro vestiti la loro architettura è palesemente ispirata ai popoli precolombiani nonostante non siano umani sono letteralmente delle lucertole bipede senzienti questo non deve neanche essere fatto con l'intera cultura magari un particolare elemento culturale all'interno della vostra cultura comunque la cultura e condividete con i vostri giocatori può essere preso e ricontestualizzato per un motivo simile che in molte città d'italia la celebrazione del patrono o altre feste religiose prevedono che ci sia una processione o della statua della madonna o di altri santi comunque una processione di qualche idolo religioso all'interno della vostra città fantasy potrebbe esserci un qualche tipo di festa religiosa che prevede l'ostentazione e la processione dell'icona della divinità locale i giocatori sanno benissimo cos'è una processione della madonna quando vedranno della gente per la strada che si porta in spalle la statua di pelor capiranno immediatamente che quello è un qualche tipo di celebrazione religiosa senza che voi dobbiate stare a spiegarglielo allo stesso modo se voi fate in modo che una delle culture all'interno della vostra ambientazione sia molto simile o del tutto identica a una cultura reale i giocatori sapranno già cosa aspettarsi da quella cultura senza che voi state a spiegarglielo se gli orchi al nord vivono e si comportano come i vichinghi i giocatori daranno per scontato che tutto quello che sanno sui vichinghi vale per gli orchi che vivono nel nord potreste anche sostituire un elemento culturale iconico o percepito come iconico e sostituirlo con qualcos'altro all'interno della vostra ambientazione in quasi tutte le città ci sono ristoranti caratteristici etnici ambienti culturali il ristorante cinese il kebabbaro questi elementi hanno dei palesi riferimenti culturali il ristorante cinese è una rappresentazione normalmente del tutto edulcorata della cultura orientale lo stand del kebabbaro ha qualcosa di esotico e medio orientale potreste prendere questi elementi e sostituirli con qualcosa di tipico e la vostra ambientazione nella città dove vivono i vostri giocatori non c'è il ristorante cinese c'è il ristorante alieno c'è il ristorante della cucina tipica marziana c'è la trattoria dei nani dove si beve la famosa birra dei nani c'è il ristorante degli elfi dove si gustano tipici piatti elfici e il suo interno è decorato in stile elfico dato che sicuramente i vostri giocatori avranno mangiato al ristorante cinese una volta nella vita o comunque sapranno che cos'è un ristorante cinese capiranno immediatamente la sostituzione che è avvenuta e quindi se il ristorante cinese è una rappresentazione edulcorata dalla cultura orientale il ristorante elfico sarà percepito come una rappresentazione edulcorata dalla cultura elfica sarà immediatamente chiaro che in quel contesto la cultura a cui appartiene la tradizione culinaria e probabilmente anche il proprietario e il locale non è quella tipica della regione ma è vista come qualcosa di esotico potreste anche al contrario sostituire un elemento culturale tipico di una cultura esistente con qualcosa invece di legato alla vostra ambientazione la religione shintoista si basa sul culto animistico potreste prendere i rituali shintoisti magari anche un tempio in classico stile shintoista ma utilizzarlo per un culto delle divinità elementali sono di per sé rappresentazioni animistiche quindi avrebbe anche senso nel vostro mondo la religione delle potenze elementali ha avuto uno sviluppo simile a quello che nel nostro mondo ha avuto il culto shintoista a volte viene anche preso un elemento significativo in una forma già nota ai giocatori o comunque che si presuppone sempre a essere nota ai giocatori anche quando non necessariamente quella forma ha senso questa è una cosa che ho visto molto spesso in una quest ma la si vede anche in film e telefilm quando viene celebrato un matrimonio ci sono i due sposi uno avanti all'altro e il sacerdote che pronuncia qualche tipo di formula rituale in realtà questo è il rito cristiano moderno già anche solo nel medioevo un matrimonio non veniva svolto in questo modo però se voi vedete qualcosa di ambientato dal medioevo il matrimonio verrà fatto in realtà secondo il rito moderno perché? perché in quel modo è immediatamente evidente che quello è un matrimonio che poi le parole del prete siano diverse quello fa parte della cultura locale secondo lo stesso principio potreste prendere qualcosa che abbia un'arrivanza culturale e utilizzarla per significare qualcos'altro o anche solo prendere una tradizione reale e semplicemente importarla nel vostro mondo magari quando gli alieni attaccano la terra ai vostri personaggi arriva la cartolina rosa del precetto militare che vuol dire che sono state richiamate alle armi forse per i più giovani di voi non avrà significato per quelli della mia generazione si ed è immediatamente evidente quello che sta succedendo ovviamente questo non riguarda solo le grandi culture nazionali o i popoli può essere anche scalato su gruppi e organizzazioni più piccole un'organizzazione nel vostro mondo immaginario è molto simile a dei comportamenti simili a quello di un'organizzazione reale nel nostro mondo quando i giocatori andranno a visitare la scuola di magia l'antico collegio arcano magari sarà organizzato all'interno come un'università e i maghi diranno che per essere considerato un mago devi presentare la tesi di laurea su una particolare scuola di magia un mago specialista potrebbe riferirsi a se stesso come io sono un dottore in evocazione tutti sanno che cosa vuol dire avere una laurea magari hanno fatto università conoscono qualcuno che hanno fatto università quindi dire che i maghi questi ragazzi si devono laureare come necromanti capiranno immediatamente che cosa vuol dire studiare in una scuola di magia non deve neanche essere un elemento reale quello con cui si va a sostituire l'elemento del vostro wall building ma magari anche solo la percezione di un elemento reale il re ha nella sua corte delle spie che usa per spiare i regni rivali quando i giocatori entrano in contatto con la gilda reale delle spie la gilda reale delle spie è organizzata come la CIA in un film di spionaggio come le MI5 dei film di James Bond tutti hanno una percezione data all'osmosi culturale dai film americani di cosa siano gli uomini in nero della CIA se le spie si comportano allo stesso modo i giocatori capiranno immediatamente che quella è un'organizzazione spionistica a quel punto potrebbero essere presi degli altri paralleli culturali e magari tra il regno dei giocatori e il regno a fianco c'è uno stato di guerra fredda che si combatte in maniera molto simile a come la guerra fredda è rappresentata nei film di James Bond che non ha niente a che fare con l'attività spionistica nel mondo reale però è una percezione che i giocatori dovrebbero già avere di come funzionano le cose in quel mondo altri potrebbero essere semplicemente degli elementi minori che vengono sostituiti per l'effetto opposto cioè per far vedere quanto quel mondo è diverso non quanto quel mondo è simile quindi prendere qualcosa di normale e andarlo a sostituire con qualcosa di estremamente bizzarro quando i giocatori visitano il pianeta alieno ci sarà una fattoria dove ci sono animali da fattoria ma gli animali da fattoria saranno bizzarre bestie aliene insetti giganti o qualcosa del genere o anche il quando vanno a parlare alla corte del re degli elfi il re degli elfi invece di avere un bracco da caccia che accarezza accarezza qualche bizzarra creatura fatata che però si comporta come se fosse l'animale domestico al re degli elfi è una cosa normale ma presentata in una maniera bizzarra in modo da far capire ai personaggi che quel mondo funziona in maniera diversa ovviamente tutto questo però prevede che ci sia una cultura comune al tavolo ai giocatori per la grande maggior parte dei casi è abbastanza scontato che tutti i giocatori dello stesso tavolo abbiano grossomodo gli stessi riferimenti culturali fate però attenzione e magari poi chiedete esplicitamente magari anche prima di mettervi a organizzare il mondo se questo è vero al di là del fatto che se avete al tavolo un giocatore straniero o se voi siete il giocatore straniero al tavolo alcune cose ovvie per voi potrebbero non esserlo per lui ma molto dipende anche dal il proprio bagaglio culturale se voi inserite dei trope classici del fantasy ma al tavolo c'è qualcuno che in realtà non è affatto avvezzo ai trope classici del fantasy tutti gli elementi di sostituzione che avete fatto salteranno diciamo comunque che questo video è tutto ovviamente questa non è una lista definitiva come sempre però un'idea di quello che potete fare ve lo data ora ditemi voi nei commenti qui sotto come voi avete utilizzato questo elemento di sostituzione nelle vostre quest o se non lo conoscevate se non lo conoscevate vi siete resi conto adesso che il vostro master l'ha utilizzato scrivete anche tutti eventuali domande, dubbi, propensità che avete se il video vi è piaciuto mettete un like e condividetelo che aiuta a crescere il canale iscrivetevi e schiacciate la campanella se non volete perdervi le notifiche io sono il master CAE noi ci vediamo al prossimo video ciao 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 ciao